Uomini del commissariato di Fano, della capitaneria di Porto, dell'ispettorato del lavoro, coordinati dal dirigente Stefano Seretti, hanno verificato ieri 5 imbarcazioni ed identificate 20 persone, scovando 13 lavoratori in nero tra personale imbarcato e di terra e ben due clandestini provenienti dallo Sri Lanka e dalla Tunisia. Ma chi sono questi manovalli della pesca? Per la maggior parte extracomunitari che svolgono lavori sia a bordo dei piccoli pescherecci che a terra dopo la battuta di pesca nelle operazioni di rimessaggio. Basta andare di mattina presto al molo della Marina dei Cesi dove attraccano le imbarcazioni che effettuano la piccola pesca intenti a ripulire le reti dai crostacei o dai residui rimasti impigliati nelle reti. Le verifiche dell'ispettorato del lavoro hanno riguardato le 16 posizioni di lavoratori dipendenti di 5 aziende i cui accertamenti sono ancora in corso. La pubblica amministrazione ha adottato di conseguenza 5 provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale e accertate sanzioni per 40.000 euro. Si può tranquillamente parlare di maxi retata nel porto di Fano visto l'elevato numero di unità impegnate, oltre una ventina di cui 10 del commissariato fanese, 5 del circo mare Fano e 5 dell'ispettorato del lavoro. Per i clandestini l'ufficio immigrazione della questura di Pesaro ha avviato le procedure per l'espulsione dal territorio italiano.